ciao a tutti iniziamo quindi il vestitino facendo la parte superiore del corpetto questa parte qua rotonda ecco io spero di realizzarla tutta in questo video ma sicuramente la realizzerò fin qui poi va bene cerchiamo di arrivare anche un pezzetto qua giù proseguire un attimo ma tutto dipenderà da questo signorino qua infatti ora sta dormendo è tranquillo però se si mette a fare il casino è possibile che io debba fare dei tagli per cui non mi regolano nel tempo che stiamo a registrare sente tutto comunque però fa finta di non essere interessato no sta praticamente in anestesia generale quindi iniziamo da qui dove finiamo non lo so vedremo alla fine ok allora con l'uncinetto numero 1,75 e il cotone cablet numero 8 iniziamo 114 catenelle quindi ecco una due tre quattro cinque 111 112 112 113 e 114 ok ecco 114 catenelle per fare 112 maglie alte quindi nel primo giro facciamo 112 maglie alte 1 2 3 sulla quarta catenella dall'uncinetto cominciamo a fare maglie alte contando due perché la prima no è rappresentata dalle 3 catenelle quindi 1 2 3 4 4 5 ok sempre così arriviamo a 112 appunto 110 111 111 e l'ultima no la 112 quindi qua in fondo ok il primo giro quindi abbiamo fatto 112 maglie alte allora nel secondo giro cominciamo a fare subito gli aumenti e ne faremo 56 quindi da 112 arriveremo a 168 maglie alte e come li facciamo questi aumenti e li facciamo con una maglia alta un aumento per 56 volte appunto quindi giriamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta no così poi nella maglia alta sottostante non questa qui perché questa è quella corrispondente alle 3 catenelle ma nella successiva facciamo subito l'aumento quindi due maglie alte nello stesso punto ecco quindi abbiamo fatto 3 maglie alte su 2 sottostante quindi ancora una maglia alta e un aumento quindi due maglie alte nello stesso punto una maglia alta una maglia alta quindi nella maglia alta successiva che sarebbe questa ci faccio due maglie alte una e due ok sempre una maglia alta un aumento una maglia alta un aumento per 56 volte fino alla fine del giro dove otterremo 168 maglie alte eccomi alla fine e devo fare una maglia alta un aumento e necessariamente finire con una maglia alta qui e un aumento sulla terza delle 3 catenelle quindi dell'inizio quindi ok una maglia alta qui e l'altra maglia alta sempre nello stesso punto ecco qua e ho terminato quindi anche il secondo giro con 168 maglie alte ecco e la cosa già cominciano ad arrotondarsi un attimino perché dovrà diventare necessariamente una cosa così circolare che poi noi andremo a schiacciare così no e a fare come sempre questo corpettino ok nel terzo e nel quarto giro facciamo sempre 168 maglie qui sopra quindi giriamo sempre con le 3 catenelle 1 2 3 e facciamo 168 maglie alte quindi andiamo sopra le maglie alte sottostanti così semplicemente ecco ecco sia nel terzo giro quindi questo che al ritorno quindi nel quarto giro nel quinto giro dobbiamo fare di nuovo aumenti e in particolar modo ne dobbiamo fare 28 quindi arrivare da 168 maglie a 196 e io li distribuisco così cioè faccio 5 maglie alte un aumento per 28 volte quindi praticamente inizio qua a fare gli aumenti e finisco alla fine di tutto il giro con 5 maglie alte un aumento 1 2 3 4 e 5 maglie alte così e poi faccio l'aumento sulla maglia alta successiva sottostante quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base quindi ancora 5 maglie alte 1 2 3 4 5 e nella sesta qua l'aumento ok questo modulo qui 5 maglie alte un aumento lo ripetete 28 volte e alla fine vi dovranno tornare 196 maglie alte qui alla fine del quinto giro nel sesto giro nel sesto giro dobbiamo fare 196 maglie alte quindi necessariamente andiamo sopra le maglie del quinto giro quindi facciamo 3 catenelle per iniziare voltiamo il lavoro e facciamo le maglie alte sopra quelle sottostanti ecco così ed arriviamo a 196 nel settimo giro per questo modulo dobbiamo raggiungere 224 maglie alte per cui facciamo 6 maglie alte un aumento fino alla fine cioè ripetiamo sempre questo modulo 6 maglie alte un aumento fino alla fine quindi facciamo 3 catenelle quindi facciamo 3 catenelle per girare un aumento quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base e poi ripetiamo questa cosa qui ovvero 6 maglie alte e un aumento 1 2 3 4 5 6 maglie alte e l'aumento quindi una maglia alta e un'altra maglia alta nello stesso punto facciamo sempre così 6 maglie alte un aumento 6 maglie alte un aumento fino alla fine e raggiungiamo 224 maglie alte nel settimo giro eccoci qua dopo 7 giri nell'ottavo giro dobbiamo fare 224 maglie alte quindi le stesse che abbiamo raggiunto nel settimo giro per cui facciamo 3 catenelle voltiamo il lavoro e andiamo sopra le maglie alte sottostanti normalmente 3 4 5 6 7 ok sempre così fino alla fine e facciamo 224 maglie alte nell'ottavo giro nel nono giro dobbiamo raggiungere 252 maglie alte quindi facciamo il modulo 7 maglie alte un aumento per tutto il giro quindi come prima e come sempre facciamo le nostre 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta poi voltiamo il lavoro e facciamo 7 maglie alte quindi una è questa 2 3 4 5 6 7 maglie alte ecco qua ecco qua ecco qua ecco qua e l'aumento nella maglia alta sottostante successiva quindi una maglia e l'altra ancora ancora facciamo 7 maglie alte quindi una 2 3 4 4 4 5 6 7 7 maglie alte e il nostro aumento quindi una maglia alta e un'altra maglia alta sempre nello stesso punto ok facciamo questa cosa qui fino alla fine e alla fine del nono giro avremo 252 maglie alte nel decimo giro dobbiamo fare 252 maglie alte quindi facciamo 3 catenelle che rappresentano la prima maglia alta giriamo il lavoro e facciamo le 252 maglie alte sopra le maglie alte sottostanti quindi niente di complicato facciamo un giro tutta maglie alte nell'undicesimo giro dovremo raggiungere 280 maglie alte quindi fare aumenti ripetiamo pertanto il modulo di 8 maglie alte un aumento fino alla fine quindi facciamo 3 catenelle per iniziare voltiamo il lavoro e facciamo queste 8 maglie alte quindi una due tre quattro cinque sei sette e 8 maglie alte ok poi facciamo l'aumento quindi nella maglia alta sottostante successiva facciamo due maglie alte nello stesso punto ecco quindi l'aumento ecco quindi l'aumento ripetiamo ancora 8 maglie alte l'aumento quindi una due tre quattro cinque sei sei sette otto maglie alte e l'aumento nella maglia alta successiva sottostante ok, facciamo sempre 8 maglie alte un aumento, 8 maglie alte un aumento fino alla fine e per ottenere quindi nell'undicesimo giro 280 maglie alte dodicesimo giro ed è anche l'ultimo di questo corpettino qua a rotondo facciamo 280 maglie alte quindi giriamo con 3 catenelle e andiamo sopra le maglie alte sottostanti ecco come abbiamo fatto appunto nei giri precedenti dove non c'erano gli aumenti e arriviamo fino in fondo al dodicesimo giro con 280 maglie alte ecco, poi ci ritroviamo praticamente alla fine qua quando dovremo andare a suddividere questo corpetto cioè faremo necessariamente in questo modo così e metteremo appunto la distanza qua per le maniche metteremo delle catenelle qui per formare il giro manica la manica stessa e poi la connina ecco e quindi finiamo anche questo dodicesimo giro eccoci arrivati alla fine del dodicesimo giro facciamo l'ultima maglia alta quindi qui e poi che cosa facciamo? prendiamo la terza catenella questa qui dell'inizio ci facciamo una maglia bassissima e uniamo così tutto il dodicesimo giro e lasciamo il filo di questo gomitolo qua lasciamolo attaccato perché continueremo a lavorare con questo ecco a questo punto abbiamo fatto la parte qui del corpetto quella rotonda dobbiamo cercare questa insomma così circolare a questo punto dobbiamo andare a mettere qui a contare delle maglie a mettere dei segnali che adesso appunto vi posizionerò per cercare di fare che cosa? come dicevo prima di andare a mettere qua delle catenelle per poter creare la manica e poi la connina sia qui che qui ok andiamo a mettere questi questi segni bene facciamo attenzione a questo punto allora ecco questa è la parte posteriore dove c'è l'apertura no? come dividiamo questo corpetto? allora contiamo da qui a qui 42 maglie poi da qui a qui ne contiamo 60 da questa parte anteriore ne contiamo 76 ancora 60 e ancora 42 quindi ecco 42 42 60 60 60 e qui 76 noi che cosa facciamo? andiamo a fare così e ad unire le due parti qui laterali quella da 42 no? con quella da 60 ecco a destra e a sinistra e ci facciamo un ponte di catenelle prendendo logicamente un altro gomitolo perché questo lo lasciamo qua tanto poi lo dobbiamo utilizzare successivamente per cui adesso queste catenelle questo ci conviene tenerlo attaccato senza fare giunte le catenelle le facciamo con un filo appunto nuovo di un altro gomitolo prendiamo una parte qualsiasi perché tanto voglio dire le catenelle non è che abbiano il verso cioè la parte anteriore la parte posta il dietro il davanti del lavoro in poche parole e che cosa facciamo? uniamo qua e facciamo 20 catenelle prendiamo quest'altra parte e andiamo ad unire con il punto dove erano il segno ecco ci facciamo la maglia bassissima e tagliamo il filo ecco togliamo tutti i nostri segnali qua che tanto non serviranno più e fermiamo con l'ago questi fili in modo da avere queste catenelle appunto libere ecco da fili che ci daranno poi fastidio e deve venire una cosa così ecco quindi da questa parte qua avremo una cosa del genere a destra e che poi va bene siccome è così sarà la parte sinistra ecco così e la stessa cosa la faremo da quest'altra parte quindi la avremo anche di qua adesso andiamo a metterle facciamo esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto qui ecco quindi che cosa abbiamo fatto queste catenelle a ponte alla mia destra e queste alla mia sinistra questa è la parte posteriore che io va bene ho imbastito qua un attimo per tenerla più ferma e non avere la noia qui di portarmi la parte aperta però fate come volete ecco adesso che cosa andiamo a fare noi riprendiamo il nostro lavoro così come l'avevamo lasciato cioè in questo modo qua io adesso qui ho provato a fare qualche maglia alta ma noi avevamo lasciato a questo punto no qui dove avevamo nito il dodicesimo giro da una parte all'altra e continuiamo a lavorare tranquillamente allora che cosa facciamo va bene prima di tutto 3 catenelle per fare la prima maglia alta e poi andiamo sopra le maglie alte che ci troviamo sottostanti e visto che abbiamo suddiviso in quel modo là che abbiamo appena visto di maglie alte qui ne dovremmo avere 42 fino all'inizio appunto delle catenelle ok quindi noi facciamo sempre maglie alte in questo modo qua fino a trovarci nei pressi ecco delle catenelle perché andremo invece che continuare qui andremo a lavorare sopra le catenelle ci porteremo necessariamente dall'altra parte lasciando la manichina in questo modo ok quindi facciamo 42 maglie alte qua e poi vediamo come si va sopra le catenelle e poi vi dico quante appunto devono essere in totale le maglie alte tutti intorno eccoci a 42 quindi da qui a qui ne ho fatte 42 e adesso passo sopra le catenelle quindi una due tre 19 e 20 ok poi vado visto che questa era quella dove è attaccata la catenella questa qui e di maglie alte questa volta ne conto 76 perché appunto sulla parte anteriore del vestitino ce n'erano 76 comunque adesso vi faccio vedere bene quante ne dovrete fare con precisione ok adesso sto soltanto facendo il passaggio qui sulla parte anteriore in modo che si veda bene poi come bisogna fare ok allora che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto le 42 maglie no maglie alte abbiamo iniziato dalla parte posteriore abbiamo fatto 42 maglie alte poi ne abbiamo fatte 20 sopra le catenelle ecco il verso no sarà questo qui della manichina questo sarà il verso ecco della manichina siamo andati quindi sopra queste 20 e poi siamo passati sul davanti del lavoro ecco il davanti del lavoro appunto dove prima di arrivare a raggiungere queste altre 20 catenelle dove dobbiamo passare qui sopra con le maglie alte per andare nella parte posteriore dovremmo fare necessariamente 76 maglie alte poi ne facciamo altre 20 giriamo qua e ne facciamo altre 42 e ci andiamo ad unire qui quindi in tutto 42 più 20 più 76 più ancora 20 e più 42 quindi in tutto 200 maglie alte tutto intorno qui tralasciando la parte delle maniche quindi così qui 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 fin qui il nostro lavoro avrà 200 maglie alte ecco e da qui partirà appunto la connina da questa parte qua contatele bene perché poi il risultato finale dipenderà proprio dal dal fatto che qui ci sono 200 maglie alte sulla sull'inizio della gonna perché altrimenti poi i conti con gli aumenti a tutto non tornano ok facciamo fino qui in modo che abbiamo fatto il primo giro della gonna ok ricapitoliamo ancora una volta così non abbiamo modo di sbagliare assolutamente che cosa abbiamo fatto nel tredicesimo giro siamo partiti prima di tutto dalla parte questa qui posteriore abbiamo fatto 42 maglie alte poi siamo passati sopra le 20 catenelle siamo andati anteriormente ne abbiamo fatte 76 di maglie alte siamo tornati sopra le catenelle abbiamo fatto 20 maglie alte e abbiamo terminato con 42 maglie alte a questo punto non ci resta altro che andare sulla terza catenella qui dell'inizio e chiudere il giro il tredicesimo con una maglia bassissima ecco adesso i giri 13 appunto questo 14 15 e 16 quindi altri tre giri iniziamo con tre catenelle come sempre li facciamo di 200 maglie basse quindi andiamo sopra le maglie basse sottostanti ecco così tranquillamente e uniamoci sempre alla fine ecco la terza catenella qui d'inizio con una maglia bassissima quindi i giri 13 che abbiamo fatto poi il 14 15 16 li facciamo di 200 maglie basse quindi andandone qui sopra abbandoniamo completamente le maniche e andiamo ecco in questa circonferenza qui andiamo a lavorare le 200 maglie alte a questo punto quindi ci ritroviamo al giro sedicesimo compreso sempre con 200 maglie alte e poi cominciamo ad aumentare a fare gli aumenti per dare la morbidezza e l'arricciatura alla gonna ok eccomi arrivata al sedicesimo giro infatti ecco 13 14 15 16 no adesso e ho lavorato sempre in tondo così a cerchio chiudendo qua all'inizio con la maglia bassissima adesso cominciamo gli aumenti della gonna quindi nel 17 giro io da 200 maglie alte ne devo raggiungere 240 e faccio sempre 4 maglie alte un aumento per tutto il giro quindi inizio con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta poi faccio 2 3 e 4 maglie alte ecco e nella maglia alta successiva ci faccio l'aumento quindi 2 maglie nella stessa maglia di base continuo sempre così faccio 1 2 3 4 maglie alte e nella maglia alta successiva sottostante l'aumento ok continuiamo sempre in questo modo fino alla fine del giro e otterremo 240 maglie alte alla fine del 17 giro eccomi alla fine del 17 giro dove faccio le ultime 4 maglie alte 1 1 2 3 e 4 e poi l'ultimo aumento quindi 1 e 2 prendo prendo qua la terza catenella nell'inizio faccio la maglia bassissima e chiudo il 17 giro nel 18 giro io devo fare 240 maglie alte quindi andare sopra queste che ho già fatto le 3 catenelle mi sostituiscono la prima maglia alta e poi continuo sempre a maglie alte così tranquillamente come abbiamo fatto nei giri senza aumenti facendo semplicemente maglie alte sopra le maglie alte sottostanti nel 19 giro che è anche l'ultimo degli aumenti della connina l'ultimo degli aumenti in generale perché da qui in poi non faremo più aumenti devo raggiungere quindi in questo diciannovesimo giro 280 maglie alte e quindi farò 5 maglie alte un aumento sempre per tutto il giro quindi il modulo 5 maglie alte un aumento lo ripeterò per tutto il giro ok quindi facciamo le nostre 3 catenelle e le 5 maglie alte quindi contando 1 2 3 4 5 maglie alte e l'aumento quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base ecco qua ripetiamo ancora 5 maglie alte un aumento 1 2 3 4 5 maglie alte e qui l'aumento una maglia alta e l'altra ok facciamo così fino alla fine e chiudiamo il diciannovesimo giro con 280 maglie alte eccomi alla fine del diciannovesimo giro dove devo fare le ultime 5 maglie alte e l'ultimo aumento quindi 1 2 3 4 5 maglie alte ok e l'ultimo aumento quindi 1 e 2 maglie alte poi vado qui nella terza catenella d'inizio e chiudo con la maglia bassissima il diciannovesimo giro a questo punto ho raggiunto 280 maglie alte per quanto riguarda qui la gonna questo sarà il punto dove inseriremo il nastrino e quindi ecco andrà in qualche maniera ad arricciare così come quest'altro vestitino appunto già realizzato adesso i giri 20 21 22 23 24 25 26 27 28 e 29 quindi un bel pezzone così li dobbiamo fare sempre con 280 maglie alte quindi 10 giri perché dal 20 al 29 compreso sono 10 giri sempre con 280 maglie alte quindi il lavoro adesso è solamente ripetitivo non bisogna fare nessun aumento non bisogna stare a fare altre cose particolari il nastrino lo inseriamo alla fine senza starlo magari asciupare adesso quindi magari ecco vi vedete questa cosa qua però non preoccupatevi perché questo poi andrà a restringersi così come questa parte qui e quindi facciamo questo pezzone lungo così di maglie alte ok mettete mi piace al video se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un commento qua sotto e poi ci vediamo la prossima volta dove iniziamo a fare cioè no dove facciamo necessariamente il motivo perché a questo punto c'è tempo visto che siamo arrivati fin qua io non avrei mai immaginato che in 30 minuti saremmo potuti arrivare fin qua è andata bene quindi la prossima volta facciamo il motivo e la rifinitura posteriore e poi il vestitino l'abbiamo bello che è terminato i fiorellini io ve li faccio staccati dal vestitino cioè va bene ve li ricamo qua sopra tranquillamente però ve li metto in un video separatamente perché poi se vi serviranno magari per rornare qualsiasi altra cosa che sia un altro abitino una copertina voi non vi dovete andare a guardare necessariamente il video del vestitino vi scrivo fiorellini appunto vapore e cliccate là e ve li andate a guardare in qualsiasi altro momento bene alla prossima volta e buon lavoro proseguite con calma in pieno relax per fare questo pezzone che sono praticamente 2800 maglie alte perché 280 per 10 fa 2800 per 10 giri fa 2800 comunque va bene non facciamo questi conti che ci spaventano e iniziamo subito a lavorare a lavorare a lavorare a lavorare a pai a разработare a lavorare awn a a a a a a Grazie a tutti.